Ancora sconosciute le cause del rogo che oggi attorno a mezzogiorno è divampato in un fienile adiacente, un'abitazione in via Segavecchia a Friola di Pozzo Leone, distrutti dalle fiamme 350 quintali di fieno, 100 di legna da ardere, attrezzi agricoli depositati nella struttura. In salvo i capi di bestiame che si trovavano nella stalla vicina separata dal fienile. Ad accordersi delle lingue di fuoco un passante che ha subito avvertito l'anziano padrone di casa che non si era accorto di nulla. Immediato l'allarme ai vigili del fuoco intervenuti in massa da Bassano più un'autobotte da Vicenza al lavoro per ore prima di riuscire a domare l'incendio. Necessario lo smassamento di tutto il fieno portato all'esterno dello stabile per assicurare lo spegnimento delle fiamme. Sul posto anche i carabinieri.